A nove anni dalla chiusura il Cinemastra in Piazza Beccaria a Firenze riaprirà il prossimo 26 gennaio. Sarà uno spazio polifunzionale completamente rinnovato, realizzato dallo studio di architettura Archea. La riapertura del cinema, di proprietà della Banca di Cambiano dal 2017, è stata resa possibile dal regolamento urbanistico del Comune che prevede un riutilizzo a fini culturali delle sale cittadine dismesse. Il Comune aveva fatto una delibera dove obbligava che chi restaurava sale cinematografiche ne doveva rimanere il 60% uso cinema. Per noi è stato un intervento onerosso sicuramente ma che rientrava nel filone delle scelte anche di politica culturale e abbiamo sempre fatto. Dobbiamo essere flessibili anche alle esigenze di una società che cambia. Sappiamo tutti, ahimè, anche le difficoltà a cui vanno incontro le sale cinematografiche e gli operatori del cinema ragion per cui avere un uso flessibile dello spazio anche per poterlo adibire ad altre iniziative e altri eventi rappresenta un elemento di sostenibilità economica proprio per le sale cinematografiche stesse.